Ciao e bentornati a una nuova video recensione del canale Justin Apple. Io sono Justin, mi trovate su Twitter come JustiRosati e oggi voglio presentarvi una custodia per iPhone che sicuramente farà sorridere i vostri amici. Dopo avervi presentato la custodia per MacBook Air della Big Big Pixel, in molti mi hanno chiesto di provare anche un accessorio sicuramente di più ampio respiro, dato alla mole di persone che posseggono un iPhone. Cioè proprio una custodia per quest'ultimo, sempre della Big Big Pixel e sempre, come potete immaginare, dalle fattezze davvero davvero particolari. Partiamo dal packaging estremamente semplice. Una busta di carta sicuramente non la si può definire elegante né tanto meno utile, dato che tra le altre cose non mostra né la custodia all'interno né spiega cosa troveremo, ma è solo una busta quindi scartiamola e andiamo avanti. Come potete vedere la custodia è pixelosa, come ci si poteva aspettare. Ha dei piccoli angoli un pochino a guzzi che inizialmente strideranno nelle vostre mani, abituate alla smussatura classica dell'iPhone 5. Questo vi farà capire vivamente perché Hive abbia scelto di inserire questa variante, che tutti odiano per il suo colore un pochino fragile. La custodia ha un bel nero intenso e, oltre a essere davvero particolare, ha sicuramente nella mela morsicata fatta di pixel il suo più alto punto di espressione, di un'arte che in pochi ricordavano prima dell'avvento era Big Big Pixel. C'è da dire che se non amate le custodie che trasformano dimensioni e fattezze del vostro iPhone, questa non è la custodia che fa per voi. Dovrete infatti tenere presente che per creare i quattro angoli a sensazione di pixel, il volume dell'iPhone aumenterà esattamente di un pixel, quadratino, per ogni sua direzione, risultando così più cicciottello ma un pochino più caldo. La custodia è di indubbia bellezza stilistica, di buoni materiali e con dei bei colori, ma posso fare due appunti che la rendono meno attraente per il mio utilizzo quotidiano. Partiamo dal tasto Snow, praticamente irraggiungibile dato che è infossato nella custodia stessa. Avrete bisogno di belle unghie per attivare e disattivare il silenzioso. Secondo difetto, che per me è ancora più grave, la fessura per lasciare entrare il filo lightning è davvero troppo piccola. Non per il filo ufficiale di Apple, intendiamoci, per quello è perfetto, ma se, come nel mio caso, ricaricate in macchina il vostro iPhone ed utilizzate un cavo backing, questo non entrerà nella fessura, rendendo praticamente un incubo ogni viaggio. Difatti sarete costretti a sfilare ogni volta la custodia per ricaricare, difetto che ha sancito per il mio utilizzo dell'iPhone l'archiviazione della custodia nel cassetto del bello fashion ma scomodo nella vita di tutti i giorni. Valutate se fa o no al caso vostro un quadratino alla volta. Vi ricordo di iscrivervi infine al nostro canale su YouTube così che possiate rimanere sempre aggiornati sui nostri nuovi video, di seguirci su Twitter, siamo JustinApplePod, di mettere mi piace alla pagina Facebook di JustinApple, vedete già abbiamo tantissime persone nella community e infine di seguirci in podcast, usciamo settimanalmente con approfondimenti sul mondo Apple, siamo appunto JustinApple, ci trovate su iTunes, ma se volete potete anche andare su www.justintech per ascoltare tutti i podcast del nostro network che parlano anche di altri sistemi operativi, anche di tecnologia in generale, di videogiochi, insomma trovate tantissimi podcast. Vi ringrazio e alla prossima video recensione.